e come tutti i sabati tutti i sabato anzi oggi anticipando abbiamo il nostro opinionista fisso Enzo Mauri buon pomeriggio ciao buon pomeriggio a te ciao Enzo ciao ciao Esmeralda ciao Chiara ciao Alessandra ai noi si può dire anche sabati cioè è corretto anche se suona malissimo suona male io mi correggo sempre dico sempre anche io però si può dire si può dire è sdoganato Enzo con Esmeralda all'inizio abbiamo aperto insomma con appunto con Esmeralda dicendo che naturalmente usiamo un linguaggio anche noi consono un mix ovviamente tra l'informazione corretta e l'intrattenimento ma le radio regionali sì nazionali soprattutto si adeguano un po' e adeguano i loro palinsesti Enzo proprio per adattarli a quello che sta succedendo nel cuore dell'Europa quindi la guerra in Ucraina Enzo quindi un ruolo della radio importante la radio continua a avere un ruolo importantissimo così come lo ha avuto negli ultimi due anni con la pandemia adesso nel momento in cui ci trovavamo a uscire fuori da un tunnel sembra che siamo piombati in un altro forse anche più stretto e lo so che sono toni un po' drammatici ma questo è nel senso che è chiaro che tutte queste misure contro la Russia avranno delle ripercussioni economiche anche per noi soprattutto per il fatto che siamo sudditi per quanto riguarda l'importazione di materie prime energia e via dicendo quindi ci aspettano dei mesi difficili e proprio per questo la radio è molto importante perché chi si trova dietro un microfono dovrà trovarsi si ritroverà nel delicatissimo ruolo di dover dosare i toni e quindi usare magari toni distensivi insomma per allietare gli ascoltatori quelli che magari la mattina vanno al lavoro immagino che magari si accendono la televisione si ritrovano con cattime notizie e quindi dovranno ritrovarsi nel ruolo di risollevare l'umore di chi sta ascoltando e allo stesso tempo dovrò dare informazioni informazioni non sempre piacevoli quindi la radio continua a avere un ruolo davvero molto importante tu prima in privato mi chiedevi anche il ruolo della radio durante la guerra durante la seconda guerra mondiale ecco ha avuto sempre un ruolo importante lo dicevamo anche prima no esmeralda io volevo far vedere un libro che non è il mio è che si chiama forse non si non riesce non si quadra bene proprio a sinistra perfetto e non so se con questa copertina si riesce a leggere sì 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 radio londra il libro si chiama radio londra di mario bussoni ed è riferito appunto all'emittente storica diciamo per quanto riguarda la seconda guerra mondiale i tragici eventi della seconda guerra mondiale radio londra che trasmetteva la radio della resistenza che trasmetteva tutte le sere comunicati e informazioni ma anche intrattenimento faceva un pochino di tutto e da londra trasmettevano in tantissime lingue proprio per mandare informazioni verso i paesi occupati e per dare appunto l'idea di quanto fosse importante anche allora la radio poi quando sbarcarono gli alleati in sicilia nacquero altre emittenti radiofoniche gestite letteralmente dagli americani e poi io ricordo anche nel mio libro tanto per richiamarmi un pochino sempre al discorso della radio durante il periodo della guerra radio sardegna che appunto era nata in sardegna era stata allestita da un convinto contingente di italiani che voleva informare le famiglie a casa dello stato di salute dei soldati perché potete immaginare insomma la situazione qual era in quel momento radio sardegna che ebbe anche il primato di comunicare per prima addirittura prima di radio londra la fine della guerra perché gli arrivò questa trasmissione dal nord africa riguardo appunto la cessazione dei combattimenti e la riferirono in italia prima ancora che radio londra potesse dare la notizia quindi la radio è importantissima la immediatezza e informazione è tutto oserei dire ma anche perché prima c'era solo la radio cioè oggi abbiamo i social la tv la radio e i giornali diciamo però comunque aveva un ruolo primario a livello di comunicazione media potremmo dire soltanto la radio non c'erano i social non c'era tv non c'erano i tweet c'era solo la radio giustissimo giustissimo le famiglie si radunavano la sera famiglie intere intorno ai mastodontici a parecchi radiofonici che c'erano allora che magari avete visto in fotografia per ascoltare i programmi di informazione per ascoltare la musica musica classica musica leggera e dicendo perché c'era solamente la radio la radio che ha continuato a avere un'importanza primaria fino ai fino agli anni 50 60 poi ha perso qualche colpo per l'avvento della televisione anche se io non sposo per niente l'idea è portata avanti da molti che la radio sia la sorella minore della televisione a me questa cosa non è mai piaciuta devo essere sincero quindi ripeto la radio continua a essere molto importante anche in un momento delicato come questo che si protrarrà abbastanza nel tempo continuerà a rivestire un ruolo davvero molto importante quindi Enzo la radio nella resistenza quindi che diciamo avvisa anche del cessato il fuoco della fine della guerra tante piccole radio come giustamente ricordavi radio sardegna radio cagliari se non sbaglio radio bari libera anche era era solta radio bari radio bari erano tutte radio che venivano gestite dagli alleati che avevano rilevato quello che rimaneva della struttura radiofonica preesistente relativa all'EIAR che poi è diventata RAI la prima si chiamava in realtà prima URI Unione Radiofonica Italiana poi diventata EIAR e poi diventata RAI e diciamo che i militari cercavano di ripristinare quel poco che era rimasto delle strutture radiofoniche esistenti sul territorio per tornare a trasmettere e per mandare comunicati per le truppe allora riprendiamo proprio dall'EIAR però riprendiamo anche ricordiamo con te anche la radio di propaganda nel ventennio fascista e poi all'inizio appunto della guerra perché la radio era stata anche utilizzata come propaganda ascoltiamo Tancredi con Paranoie e poi tra qualche minuto di nuovo con noi Enzo Mauri Tancredi con Paranoie qui su Radio Roma sono le 14.52 e siamo collegati con il nostro opinionista fisso Enzo Mauri Enzo parliamo appunto della radio durante la guerra durante la seconda guerra mondiale la radio che annuncia la fine della guerra quindi la radio resistente ma anche la radio di propaganda durante il ventennio e poi con l'avvento appunto proprio del fascismo era c'era la propaganda Beh il ventennio colse subito l'importanza del mezzo radiofonico per la propaganda tant'è vero che era molto infastidito per esempio dalle trasmissioni di Radio Londra perché Radio Londra sebbene fosse la radio della resistenza aveva come caratteristica l'obiettività cioè dare le informazioni esattamente per come andavano date insomma relative a situazioni che stavano avvenendo in quel momento in maniera abbastanza obiettiva contrariamente invece all'informazione di regime perché insomma se vogliamo fare un accostamento magari con un regime e con quello russo per esempio leggevo poco fa che era stato comunicato ai media russi di non dare notizie riguardo le morti dei civili ucraini sotto i bombardamenti ovviamente visto che anche in Russia ci sono delle sollevazioni popolari riguardo appunto quello che sta avvenendo si cerca di non rinfocolare ulteriormente la situazione di non accendere passioni eccessive nel popolo russo cercando di dare le notizie in un certo modo quella è l'informazione di regime ovviamente un'informazione che viene filtrata e vengono date solo determinate notizie e la stessa cosa veniva anche durante il ventennio per cui gli italiani che poi alla lunga si accorsero che insomma quella era un'informazione abbastanza come dire condizionata ecco che cominciarono ad ascoltare sempre di più radio londra soprattutto quando poi le cose per l'italia cominciarono a mettersi male e al regime dava molto fastidio tanto è vero che cercavano di disturbare le trasmissioni radio londra ma nonostante tutto comunque italiani la ascoltavano lo stesso ecco Enzo la radio è stata utile nelle crisi varie politiche ricordiamo la guerra delle folkland negli anni 80 la guerra del golfo nelle due fasi degli anni 90 la stessa guerra jugoslavia ricordi quel meraviglioso lo ricordiamo credo tutti il bellissimo film good morning Vietnam dove lì appunto gli americani filtrano le notizie perché gli soldati americani dovevano solo ricevere musica e belle notizie ma non c'erano le notizie vere no in via certo ma come ti ripeto sono informazioni la propaganda la la propaganda passa per i mass media in particolar modo per la radio proprio perché allora era il media più seguito in quel momento quindi è chiaro che si cercava di condizionarlo in modo tale da non dare troppe cattive notizie alle truppe un po' appunto quello che sta venendo adesso in Russia che si cerca di dare alla popolazione solo un determinato tipo di notizie non troppo negative ecco e la radio che subisce anche condizionamenti inevitabilmente proprio perché continua a essere un media principe ecco allora Enzo noi adesso ci fermiamo un attimo per il tastativo naturalmente proseguiamo con la musica ci ritroviamo tra qualche minuto perché oltre a parlare naturalmente di radio e di guerra ci sono anche notizie sulla televisione sui programmi su quello che ha iniziato qualche un po' di curiosità un po' di novità a tra poco sempre qui su radio Roma con Enzo Mauri ma noi siamo collegati con Enzo Mauri qui su radio Roma e diciamo abbiamo adesso parlato giustamente del ruolo della radio durante la guerra durante il novecento insomma e adesso però insomma una parentesi esatto una parentesi più allegra Enzo posso iniziare con una domanda Enzo hai visto l'all 2 ecco eh lì andava a parare Smeralda immaginavo che mi avrebbe fatto la domanda sull'all 2 sì se vuoi ne parliamo senza problemi guarda farò una domanda preliminare poi ti lascio tutto il campo secondo te è forte quanto l'uno e per certi aspetti no per certi aspetti no tant'è vero che non a caso è stato inserito anche Lillo che apparteneva alla precedente edizione perché questa edizione secondo me ha qualche anello debole qualche debolezza concordo con voi allora ci sono dei comici assolutamente assolutamente superlativi come la Raffaele come Guzzanti forse un leggermente sottotono maccio capatonda perché non è proprio il suo ambiente nel senso che maccio capatonda io lo adoro premezzo e però fa un determinato tipo di comicità che non riesce non si lega bene non si lega bene diciamo per il tipo di trasmissione sicuramente mi piace molto anche il mago mago forest ci sono però dei punti deboli indubbiamente io ancora mi chiedo cosa ci stia a fare lì tes matama sazza sinceramente per carità carina influencer quello che ti pare ma non c'entra nulla con il resto del contesto anche la del bufalo mi lascia abbastanza perplesso definirla comica secondo me è eccessivo diciamo che magari la si può definire umorista però simpatica però insomma non è che faccia ridere più di tanto indubbiamente la Raffaele e Guzzanti sono al di sopra di una buona spanna rispetto agli altri e si vede insomma tra l'altro tra l'altro Enzo Guzzanti ha detto che non rifarebbe l'esperienza beh non rifarebbe l'esperienza vabbè sono cose che si dicono però insomma lui ha partecipato ha detto che cinque minuti doveva aver accettato ci aveva ripensato però comunque in ogni caso sta lì no come il una sorta di papà no di con grande esperienza sulle spalle che fa le carezze ai suoi discepoli ai suoi scolari e al momento giusto piazza una comicità inconfondibile inequivocabile superlativa per cui tanto di cappello dimmi dimmi una cosa che io ho notato poi non so se voi siete d'accordo mi sembra quasi che ci sia un pochino meno di propensione all'improvvisazione cioè mi sembra che tutto si punti sugli sketch cioè questo sketch organizzato che magari fa ridere ma si improvvisa molto meno dell'anno scorso che invece poi credo che in un contesto del genere quello che fa ridere è proprio ciò che si improvvisa cioè Frank Matano che fa la battuta si elimina da solo perché ride da solo quest'anno questo manca forse almeno per ora Frank Matano tu lo sai qual è il mio pensiero riguardo Frank Matano che comunque lo ripeto ancora una volta non ti piace? per me rappresenta un enorme punto interrogativo anche perché non fa altro che ridere cioè il suo contributo alla trasmissione è la risata però fa ridere per come ridere sì 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 vabbè però c'entra poco dai c'entra poco però Enzo anch'io sono d'accordo con Esmeralda c'è poca improvvisazione io ho visto solo la prima puntata eh ho notato la stessa cosa l'anno scorso si improvvisava molto ed è quello un po' il cuore ovviamente i personaggi che ci sono adesso sono meno avvizi a un certo tipo di improvvisazione comica sono più studiati forse quelli sì quelli che ho già citato insomma Mago Forest che comunque riesce a barcamenarsi e riesce comunque a venire fuori molto bene Virginia e Raffaele con le sue imitazioni Guzzanti appunto gli altri sono un po' al di sotto però vabbè fa parte se vuoi un pochino del gioco di LOL poi vediamo anche le prossime puntate come si svolgeranno quello che avverrà anche i pozzoli sono un po' così quindi che poi vabbè la moglie già è andata via e anche il marito non è che sia tutta sta grande detto tra di noi tutta sta grande comicità poi ovviamente c'è chi preferisce un certo tipo di comicità rispetto a un'altra però non ripeto per certi aspetti è meno entusiasmante dello scorso anno come serie probabilmente anche per quello che dici tu c'è meno improvvisazione una bella scoperta Max Sangioni forse secondo me bravo improvvisa bene Max Sangioni bravo e si è saputo calare in questa situazione attorno a questi mostri di bravura che ha attorno lui che sostanzialmente può essere definito un'ultima arrivata non so se comunque fa parte di quella nuova generazione di comici e che comunque si è saputo adeguare però ripeto il fatto che sia stato introdotto Lillo fa pensare che proprio nel momento in cui il cast è stato composto la produzione si è resa conto che c'era qualcosa che poteva non funzionare quindi hanno inserito Lillo ogni tanto per ravvivare la situazione eh sì, sono d'accordo manca proprio quello, quel mood diciamo, un'improvvisazione staremo a vedere le prossime puntate quello che accadde vediamo che succederà la domanda, il dubbio è poi la cosa curiosa, per chiudere la cosa curiosa è che sia stato messo online proprio il giorno in cui c'è stata l'invasione russa e se puoi in un momento di emotività molto forte qualcuno ha detto è stata una scelta sbagliata una coincidenza sbagliata secondo me invece hanno fatto bene perché nel momento stesso in cui magari si sente l'esigenza di staccare un attimo di vedere qualcosa di diverso proprio nel giorno in cui tutte le trasmissioni erano imperniate sull'invasione dell'Ucraina ecco che secondo me LOL ha costituito la scappatoia ideale diciamo anche che non si poteva sapere, credo cioè io da quello che so è uscito comunque verso la mezzanotte cioè non è stata proprio una cosa scelta era già previsto, era già programmato era previsto da giorni è stata una coincidenza non sfortunata però secondo me secondo me anzi è servita proprio come ripeto come ripiego da chi magari per tutto il giorno ha ascoltato le notizie drammatiche che arrivavano dall'Ucraina e la sera magari voleva scegliere qualcos'altro di più distensivo di più rilassante cosa c'è di meglio di un programma comico? certamente il sorriso bisogna comunque portarlo ancora avanti anche se viviamo veramente giorni drammatici è il ruolo che ti dicevo prima della radio la radio avrà un ruolo delicatissimo in questo senso perché dovrà intrattenere, dovrà divertire però allo stesso tempo dovrà anche dosare informazioni più drammatiche è quello che dicevamo, certo infatti, infatti per la televisione Enzo, abbiamo qualche altra news? televisione ce ne sono diverse poi ditemi il tempo che abbiamo a disposizione indubbiamente una delle novità dei prossimi mesi delle prossime settimane meglio sono stati comunicati i palinsesti primaverili dei canali Rai per esempio la trasmissione di Carlo Conti che si fa un po' a X-Factor sarà un talent dedicato alle cover band si chiamerà The Band appunto ed è in quattro puntate e Carlo Conti sta selezionando le cover band degli Abba, dei Beatles, Coldplay, Duran Duran, Maneskin, Moneskin Mattia Bazzar, Negramaro, Police, Pooh, Rolling Stones, Spandau Ballet, Queen e U2 quindi insomma è la ricerca di queste cover band che appunto poi probabilmente gareggeranno sarà una gara tra cover band e alla fine verrà scelta quella che riuscirà a rendere meglio Io faccio una domanda a Enzo anche a Esmeralda naturalmente vorrei sapere la vostra opinione in un momento in cui la musica è in grande sofferenza come categoria ormai da due anni ci voleva, serviva era utile scegliere addirittura le cover band quando si parla invece di musica originale da proporre? E io sono d'accordo con te Ma probabilmente si vuole andare sul sicuro c'è sempre il solito discorso cioè di fronte a un Amadeus che comunque ha saputo rischiare a Sanremo Amadeus ha dato un nuovo curso a Sanremo perché se ricordate fino a qualche tempo fa dopo un paio di settimane Sanremo faceva già parte di ricordi invece adesso ancora continuano a essere trasmesse le canzoni di Sanremo ancora si parla dell'ultima edizione di Sanremo che ha quindi lasciato il segno per cui probabilmente Carlo Conti non se la sente e quindi preferisce magari portare l'usato sicuro L'usato sicuro, hai detto bene Enzo, abbiamo 20 secondi quando vieni in studio? quando vieni a trovarci proprio in studio? Vedremo, vedremo te lo comunicherò un'ultima cosa perché sicuramente ti farà piacere vedremo prossimamente dal 2 al 13 aprile volevo fare la Rockstar 2 la fiction con Valentina Bellena e il ruolo di Olivia Mazzucato ebbene tornerà quindi con questa nuova serie molto attesa tra l'altro più lunga della precedente perché sarà composta da 18 episodi mentre la prima erano solo 12 Benissimo noi ti ringraziamo anche proprio per il cappello iniziale dedicato al valore della radio fondamentale durante la guerra fondamentale io ringrazio voi vi auguro una buona trasmissione un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Roma e alla prossima ciao Enzo grazie ciao Enzo Mauri grazie e alla prossima al prossimo sabato grazie